Il nostro progetto è un bellissimo concetto nostro, un effetto breve per il tempo tiranno e poi ci sarà la premiazione, ci saranno i saluti per la parte del Paglia dell'autorità. Grazie ancora a tutti vi pregherò veramente anche se siamo così costretti di mantenere un certo silenzio perché le cose riescono meglio. Grazie mille Buon pomeriggio, grazie presidente buon pomeriggio a tutti, grazie di essere qui con noi è una bellissima occasione per noi presentare questo concerto con un gruppo così numeroso che ci ascolta. Solo due parole non vi dilungherò in presentazione perché so che avete ascoltato già tantissime, interessanti presentazioni di luoghi storici e architettonici che riserva il paese di Delebbio solo appunto dicevo due parole sul gruppo e sulla potenzialità di un gruppo di fiati vedete oggi abbiamo alcuni assenti perché questa epidemia di influenza ultima ha allettato alcuni dei nostri ragazzi altri ancora sono in gita, gita scolastica per il periodo di gite scolastiche riteniamo comunque di fare per voi un buon concerto e come vi dicevo a proposito del programma proprio perché i fiati il gruppo di fiati ha straordinaria potenzialità perché il repertorio che può proporre va dalle trascrizioni di brani classici oggi infatti ascolterete proprio la trascrizione della famosa marcia militare di Beethoven avrani avrani a 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.